Chi vuole venire oggi all'interrogazione? Amico! Tedesco! Io... Ho già sentito dire che non c'ho un cazzo! Parlami dei giudizi per Canto! Esistono rettimi di giudizi! Esistono rettimi di giudizi! Un soggetto è davvero ideato! Una cosa? Un soggetto è verificato! Un soggetto! Un soggetto! Un soggetto! Un soggetto! Un soggetto! Fai spostare quella mano! Oh! Sposta! Ti fai un po' prima! Giudizi! Giudizi! Sistenti! Ah! Sì! Cazzo! Cos'è l'iperuraneo? Ehm... Sì! Ehm... Oh! Ehm... Come cazzo è questa? Pugliano! La smettiamo? Sì! Non sto facendo niente! La sensibilità in Canto! Ehm... La sensibilità in Canto! La sensibilità ha una dublice funzione! La sensibilità ha una dublice funzione! Ehm... Può essere... Passiva! Per adesso vieni al primo banco! Oh! 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 Canto, analizza, attività, attività, attività Chiudi il quaderno E... L'ottore... E... Cosa sono le categorie? Ehm... Concetti voli Concetti voli